Un farmaco biologico per curare l'orticaria. Non c'è dubbio e questa è la novità più importante del meeting europeo Skin to Live di Barcellona. La conclusione delle indagini scientifiche coincide con la registrazione europea dell'Omalizumab, il primo farmaco che cura l'orticaria cronica. Professor Picatto, possiamo dire che si apre un capitolo davvero nuovo grazie a un farmaco che va oltre gli antistaminici? Assolutamente sì, è un farmaco derivato dalla tecnologia monoclonale che ha un'azione specifica soprattutto in pazienti con questo tipo di forma cronica di orticaria. Il vantaggio più evidente dalla parte dei pazienti è il non dover subire tutti gli effetti collaterali dagli antistamini, cioè iniziare dalla sonnolenza. Assolutamente, confermo in tutto quello che hai detto ma soprattutto anche la rapidità di azione. La rapidità di azione del farmaco è veramente molto molto importante. Omalizumab è un meccanismo d'azione che anticipa la cascata di eventi che poi porta all'orticaria? È un farmaco che blocca l'azione di questi mediatori e blocca anche la produzione di sostanze vasoattive come l'istamina, quindi ha un'azione duplice. Quindi è un farmaco estremamente efficace nella cura delle allergie, infatti già cura l'asma grave in 90 paesi. L'asma è una delle indicazioni principali prima dell'orticaria cronica. Omalizumab è quindi una sola iniezione al mese per dare fiato e tranquillità alle allergie più fastidiose per i pazienti.